Benvenuto su questo video. In questo video verrà trattato in modo sintetico il modello della mente quantistica ORCOR, Orchestrated Objective Reduction, riduzione oggettiva orchestrata, sviluppato da Roger Penrose e Stuart Tameroff, ed è un tentativo di rispondere alla domanda di che cos'è la coscienza. Sir Roger Penrose è nato a Colchester l'8 agosto del 1931, è un matematico, fisico e cosmologo britannico, professore emerito all'Istituto di Matematica dell'Università di Oxford e nel 1988 ha ricevuto, assieme a Stephen Hawking, il premio Wolf per la fisica. Nel 2017 gli viene assegnata la Commandino Medal dall'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo per i suoi contributi alla storia della scienza, e nel 2020 gli viene assegnato il premio Nobel per la fisica, per avere scoperto che la formazione dei buchi neri è una robusta previsione della teoria generale della relatività. Stuart Tameroff è nato a Buffalo. Il 16 luglio del 1947 è un medico anestesista statunitense e professore presso l'Università dell'Arizona, noto per la promozione dello studio scientifico della coscienza e per le sue teorie sui meccanismi che la governano. Il modello della mente ORCOR è un'ipotesi controversa che postula che la coscienza abbia origine a livello quantistico all'interno dei neuroni, piuttosto che un prodotto delle connessioni tra neuroni. Si ritiene che il meccanismo sia un processo quantistico chiamato riduzione oggettiva orchestrato, che avviene nelle strutture, interne alle cellule, chiamate microtubuli ed è un processo significativamente amplificato nei neuroni. Secondo il fisico inglese Roger Penrose, il cervello umano non è guidato da algoritmi, cioè presenta processi o proprietà fisiche non descrivibili secondo il formalismo matematico tradizionale, questo ha portato Penrose e Ameroff a ricorrere alla teoria quantistica per la formulazione di un modello plausibile della coscienza. Questa teoria è stata avanzata per la prima volta all'inizio degli anni 90 ed è basata sulla biologia molecolare, neuroscienza, farmacologia, filosofia, teoria dell'informazione quantistica e gravità quantistica. Quando scrisse il suo primo libro sulla coscienza, The Emperor's New Mind, La mente nuova dell'imperatore, pubblicato nel 1989, Penrose non disponeva di una proposta dettagliata su come funzionassero i processi quantistici nel cervello. Successivamente, Stuart Ameroff suggerì a Penrose che certe strutture all'interno delle cellule cerebrali, i microtubuli, potevano essere i candidati idonei alle trasformazioni quantistiche e di conseguenza al fenomeno della coscienza. La teoria Orko-Orr quindi, dalla collaborazione di questi due scienziati ed è esposta nel volume Shadows of the Mind, Ombre della Mente, pubblicato nel 1994. Le ipotesi della teoria sono. La coscienza umana non è algoritmica, e quindi non può essere modellata su una convenzionale macchina di Turing come può essere un computer digitale. La meccanica quantistica gioca un ruolo essenziale nella comprensione della coscienza umana. In particolare, i microtubuli all'interno dei neuroni supportino le sovrapposizioni quantistiche. Il collasso oggettivo della funzione d'onda quantistica nei microtubuli è fondamentale per la coscienza. Il collasso in questione è il comportamento fisico non algoritmico che trascende i limiti della computabilità. La mente umana ha capacità che nessuna macchina di Turing potrebbe possedere a causa di questo meccanismo quantistico non calcolabile. La teoria della riduzione oggettiva di Penrose, abbreviata in Orcore, prevede una relazione tra la meccanica quantistica e la relatività generale, suggerendo che su scala molto piccola lo spazio-tempo curvo non è continuo ma discreto e disposto in modo da formare una rete. Penrose ipotizza che uno stato quantistico rimanga in sovrapposizione fino a quando la differenza nella curvatura dello spazio-tempo raggiunge un livello significativo. Questa idea è ispirata alla gravità quantistica, ed è un'alternativa all'interpretazione di Copenhagen, che postula che la sovrapposizione degli stati cessa sotto misura, ed è simile all'ipotesi dei molti mondi, che afferma che ogni stato alternativo di una sovrapposizione diventa reale in un mondo separato. L'idea di Penrose è un tipo di teoria del collasso oggettivo. In queste teorie la funzione d'onda è un'onda fisica, che subisce il collasso come un processo fisico, senza che degli osservatori giochino un qualsiasi ruolo. Penrose teorizza che la funzione d'onda non può essere in sovrapposizione oltre una certa differenza di massa-energia tra gli stati quantistici, ed ha un valore approssimativo per questa differenza che è il valore di massa di Planck, che chiama livello 1 gravitone. Quindi ipotizza che questa differenza di massa-energia provochi il collasso della funzione d'onda in un singolo stato, con una probabilità basata sull'ampiezza nella funzione d'onda originale, una procedura presa dalla meccanica quantistica standard. La teoria della mente quantistica di Penrose-Ameroff ipotizza che i microtubuli nei neuroni possano funzionare da elementi di calcolo quantistico. All'interno dei microtubuli la coerenza degli stati quantistici in sovrapposizione viene mantenuta fino al collasso della funzione d'onda. Normalmente una funzione d'onda collassa in seguito a una misurazione, ma si suppone che il collasso non avvenga finché la sovrapposizione quantistica resta fisicamente separata all'interno dello spazio-tempo, detta riduzione obiettiva, e quando un'area di coerenza quantistica collassa, si avrebbe un istante di coscienza. Il contributo di Ameroff alla teoria deriva dallo studio delle cellule cerebrali, i neuroni. Il suo interesse si è concentrato sul citoscheletro, che fornisce una struttura interna di supporto ai neuroni, ed in particolare sui microtubuli, che sono la componente più importante del citoscheletro. Con il progredire delle neuroscienze, il ruolo del citoscheletro e dei microtubuli ha assunto maggiore importanza. Oltre a fornire una struttura di supporto per la cellula, le funzioni note dei microtubuli includono il trasporto di molecole, comprese le molecole di neurotrasmettitori legate alle sinapsi, ed il controllo del movimento, della crescita e della forma della cellula. Ameroff ha teorizzato come i microtubuli possono essere i candidati idonei a supportare l'elaborazione quantistica nei neuroni e dare così origine alla coscienza. Questo è tutto. Grazie per la vostra attenzione e dalla prossima.